Coach Tunno, partita preparata nei minimi particolari sulle debolezze degli avversari marcando benissimo le bocche di fuoco di Scauri e alla fine i risultati si sono visti. Diciamo che siamo stati costanti per tutta la partita perché ogni periodo dei quarti loro ci hanno messo in difficoltà perché hanno tirato con percentuali importanti a tre punti sia Giammo che Provenzani praticamente hanno fatto sempre canestro 7 su 11 all'intervallo. Non è una cosa normale per noi subire 47 punti in casa. Però poi all'inizio del terzo quarto secondo me poi abbiamo trovato le contromisure giuste. Ho ruotato molto i giocatori a disposizione anche perché la situazione falli non era buonissima e devo dire che tutti hanno risposto alla grande perché sia Markovic che Dolce che si è ritrovato nel campo a giocare contro Serino e Longobardi che sono due giocatori importanti per questa categoria sicuramente non ha sfigurato e ci ha consentito di tamponare quella situazione difficile sul finire del secondo quarto. La chiave del match è un attacco che variava, tiri da tre e penetrazioni sempre a segno e poi ovviamente la marcatura quasi perfetta, forse togliamo anche il quasi, sull'NVP del campionato che questa sera è apparso un giocatore assolutamente normale. Diciamo che abbiamo fatto questo tipo di scelta, noi non volevamo che entrasse in partita Serino e Longobardi penso che l'obiettivo è stato raggiunto. È chiaro che abbiamo pagato sul perimetro però era una scelta che abbiamo fatto per tutta la partita e che abbiamo portato avanti e penso che poi alla fine ci ha premiato perché quando loro hanno iniziato a sbagliare due o tre tiri da tre punti noi siamo stati abili a campo aperto a punirli in maniera abbastanza pesante. Quanto è cresciuto a Catanzaro rispetto a inizio campionato? Tantissimo davvero? Questo dovete dire voi perché oggi penso che la partita e la prestazione è il risultato del lavoro che la squadra ha fatto in questi mesi. Tre mesi fa, quattro mesi fa era impensabile poter pensare di vedere la squadra su questi livelli. Però devo essere sincero, ho a disposizione un gruppo di grandi professionisti ed è anche il momento di ringraziare chi sta con me. Non sono dei ringraziamenti di fine campionato, anzi soprattutto ora inizia il bello. Ora inizia il bello. Ma ho uno staff a disposizione, parlo dei miei assistenti Davide Maceri e Antonio Giglio e lo staff medico con il dottore Parentella in primis e poi con Graziano Tavano e i due preparatori Giorgio Scarfone e Walter Varano che obiettivamente in questo periodo hanno fatto la differenza perché ci siamo ritrovati alla ripresa dopo Natale con Diddio operato, Calabretta che praticamente questa settimana per la prima volta ha fatto tre allenamenti. Calabretta non si allena con la squadra da tre mesi, Biordi con problemi alla schiena. Obiettivamente lo staff è stato super da questo punto di vista perché ogni domenica mi ha consentito di giocarmi la partita. Io non mi sono mai lamentato di problemi fisici ma vi assicuro che problemi diciamo acciacchi ne abbiamo avuti tantissimi tantissimi fino ad oggi e tanto tempo che non riusciamo ad allenarci come vorremmo però non abbiamo mai mollato, siamo stati sempre là e penso che sia doveroso ringraziare chi è meno visibile rispetto a me ma fa un grande lavoro. Vedendo questa squadra, benedici o no la sosta che arriverà nella prossima settimana? E poi un'ultima domanda, adesso continuate a guardarvi sotto oppure ci avete fatto un pensierino a quell'ottavo posto? Guarda, per adesso ci vediamo questa partita e siamo mi pare ottavi da soli in classifica quindi stasera saremmo ai playoff, abbiamo tre partite in casa e tre partite fuori casa. Abbiamo dieci punti di vantaggio su Cagliari e Benafro che sono le squadre sotto di noi, sotto di noi zona playout quindi teoricamente ci mancano due punti, quattro punti per mantenere al 100% la categoria. Però è anche vero che se la squadra si esprime in questo modo, giochiamoci le partite, ce ne sono sei saranno sei partite che secondo me noi ci possiamo giocare tutte, lo faremo sicuramente sarà bello invece questa parte finale del campionato. Io penso che siamo motivati, vogliosi di continuare su questa strada e la sosta non fa male perché anzi ho due settimane di tempo per recuperare definitivamente tutti gli acciacchi e per andare a giocare poi con la Luis tra due settimane a Roma nelle migliori condizioni fisiche possibili.